operazione contro l'immigrazione clandestina in varie province del nord italia gli agenti della polizia di frontiera di tarvisio in provincia di udine hanno eseguito 12 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti di un'organizzazione criminale su cui pende l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'indagine della polizia della cittadina friulana avviata nel 2008 ha permesso di accertare il coinvolgimento di vari cittadini di nazionalità indiana che dietro compenso organizzavano i viaggi e la permanenza di connazionali sia in italia che in altri paesi dell'unione europea l'esecuzione delle misure e le perquisizioni hanno impegnato anche la squadra mobile di udine e quella di brescia